Dovrebbe rimanere ancora per poco alla voce incompiuta del vocabolario, almeno visto come procedono i lavori. Il velodromo di Vittoria, di Contata Boscopiano, impianto sportivo di cui si parla ormai da decenni, comincia a vedere la luce, nel senso che da qualche mese a questa parte la struttura sta assumendo le forme, ma soprattutto lo stile architettonico che tutti si aspettano. E sotto il sole che in questi giorni picca, soprattutto nelle ore centrali della giornata, i lavori procedono abbastanza spediti e in queste ore si stanno asfaltando gli accessi laterali e i sottopassi della struttura. Allo stesso tempo è stato steso un manto di asfalto anche nello spazio all'interno della pista, mentre a giorni toccherà sistemare la ringhiera di protezione dell'impianto. In un angolo della struttura giacciono infatti per terra gli elementi in ferro della ringhiera e a breve verrà sistemata intorno all'aria interessata dai lavori. È insomma una corsa contro il tempo anche perché è intenzione dalla provincia regionale e dei tecnici procedere al più presto alla consegna dell'impianto alla città che lo aspetta da quasi 15 anni. Grazie.